Oggi siamo qui, per l'ennesima volta, a combattere per i nostri diritti. La protesta riprende il futuro da un sacco di famiglia. Ti ho insegnato a credere in qualche cosa. E te che hai fatto invece? Che zittina dura da mesi, eh? Stiamo su una strada buona per ottenere quello che vogliamo. Sono stanchi, non gliela fanno più. Il passato non lo possiamo cambiare. Nel passato non, ma il futuro sì. È sempre quello che ho cercato di fare a vita mia, no? Ma chi ci sta a provare? Non ti è calzato! Hai l'indagatore non freddo, eh?